Abbiamo sentito delle storie interessanti sul futuro della sanità, della salute, dell'elettronica, del cibo. Non abbiamo bisogno di capire come possiamo utilizzare tutto questo potenziale di creatività, di passione e talento per promuovere la crescita economica, per creare delle aziende, per creare posti di lavoro. Queste sono noti oppure qualcosa di più. Questa è la sessione che abbiamo adesso. È il business dei maker. E adesso è un grande onore avere con noi il leader del movimento, il maker, è il maker della revoluzione. Rivoluzione, la terza revoluzione. Dale, dovresti? Buongiorno a tutti. È un grande piacere e un onore essere qui, un grande onore venire a Roma per la seconda maker fair di Roma. Questo è l'anno del maker. È stato un anno abbastanza triste. Questo è cominciato a gennaio con la maker fair che abbiamo mai fatto sotto la neve in Orbelgia, Oslo. Ho cominciato a andare in diverse fiere. Sono stato a Shenzhen e in Cina e abbiamo cominciato a capire il movimento dei maker emergente in Cina. In Cina che ha così tante fabbriche, però che comincia anche a sviluppare le sue idee su cosa produrre. Poi abbiamo organizzato la grande maker fair, 130.000 persone nell'area di San Francisco. Poi siamo andati a Hannover, Germania, per il secondo anno del maker fair. E abbiamo cominciato a vedere cose diverse. E in ogni fiera ci sono cose diverse, diverse sapanti. Poi abbiamo fatto due settimane fa una maker fair a New York City con migliaia di persone. Poi abbiamo oggi una Roma, che significa che l'anno scorso abbiamo avuto 150 maker fair. Per cosa sta accadendo? Ne vorrei iniziare tornando alle origini. 10 anni fa io ho cominciato a scrivere su una rivista. L'idea era quella di scrivere dei progetti che utilizzavano la tecnologia, prodotti carini. Sesso abbiamo dei progetti, però non vediamo le istruzioni per poter capire come funzionano. E questo era l'obiettivo della rivista. E nel primo numero, mi sono reso conto che... No, noi non volevamo avere utenti oppure lettori, volevamo avere maker, però non avevo alcuna idea che la parola fare. E questa identità del maker sarebbe stata utilizzata e si sarebbe diffusa in tutto il mondo. Molto velocemente, spesso mi chiedono, i giornalisti mi chiedono, ti puoi dare la definizione di maker? E io vi dico che non ce l'ho, e questa è la cosa interessante. Cioè, possiamo definire che cos'è un maker, però sono persone che creano progetti e li condividono. E il fatto di condividere è il motore dell'attuale movimento dei maker, come è stato detto oggi con l'internet. La capacità di condividere quello che noi sappiamo, quello che noi possiamo apprendere, quello che noi possiamo fare, questo ha un grande potere. E spero, quando avremo più persone che vengono nel movimento di maker, che sappiamo che la capacità è la possibilità di formare delle comunità. E' l'idea che stiamo portando molti diversi persone insieme, che fanno diverse cose. E il maker fare, sempre, a sapere le persone, a parte la frenesia, uno va a vedere dieci diversi progetti diversi. E non sono connessi, ma in una comunità di maker, non sono. Loro creano una cultura diversa che permette ai makers di condividere le idee di parlare, oppure condividere i componenti come Arduino. usando queste componenti standardizzate per creare una comunità di esperti che sanno cosa fare. Perché se noi utilizziamo solo sistemi, proprietari, non è possibile condividere le nostre conoscenze su come funzionano. E la formazione di questa comunità è la base di tutto. E c'è un senso di identità, l'identità di essere maker. In qualche modo, tutto questo è iniziato dall'idea di condividere. E' stato importante, soprattutto perché il movimento di maker adesso è di interesse nelle aziende. non tanto solo produrre, ma anche di condividere. Questo è vero anche per l'istruzione. Io penso che una delle ultime trasformazioni che il movimento di maker è proprio quello di cambiare il modo in cui noi istruiamo i giovani. Cioè, incoraggiarli a fare progetti creativi e condividerli. E incoraggiarli a utilizzare differenti progetti, differenti idee, differenti cose. All'interno di quello che stiamo facendo è prendere qualcosa che è solo un'idea e rendere reale. E ciò che stiamo facendo come maker è cambiando il modo in cui le cose vengono prodotte. Il modo in cui vengono prodotte e dove vengono prodotte e cosa viene prodotto. E la cosa più importante è chi è che fa queste cose. E allora il fatto che la comunità è aperta e inclusiva la comunità riesce a scoprire nuovi talenti. La comunità riesce a scoprire nuovi talenti, persone che hanno delle idee originali che possono svilupparle che non avrebbero mai potuto farlo attraverso l'industria. Ma potrebbero avere le risorse di cui hanno bisogno che hanno bisogno di fare qualcosa di reale e visibile per rendere il progetto qualcosa di reale e visibile per il mondo. Il momento si parlerà di Kickstarter e chiaramento. E' più facile prendere qualcosa da un'idea e creare un prototipo e magari anche creare dei soldi per poter produrre questa cosa e metterla sul mercato. E questo veramente cambia il modo in cui le persone possono partecipare. E poi c'è una nuova libertà creativa che abbiamo, ad utilizzare questi strumenti e di pensare a delle applicazioni che potrebbero essere inimmaginabili nel passato. E non pensiamo mai a noi come individui in potessimo parlo. Questo è un grande potere. Ed è questa in essenza il motore del motore del motore del motore del motore del motore. All'inizio non avevano mai pensato questa cosa. E loro possono andare a sviluppare o aiutare con la distribuzione o aiutare con la produzione. come mi sono andato a casa e cominciano a pensare se possono fare altri progetti per poterli vendere. E' come l'era della produzione di piccole quantità di prodotti per poi passare a un livello superiore e poi a un livello superiore ancora. Noi siamo cominciando a vedere che i makers stanno producendo beni e servizi. E non mi entusi mangiare un'idea prima. Noi abbiamo parlato di 3D e credo che possiamo trovare un 3D. Ma la maggior parte non ha un 3D. C'è servizi come Shapeways tolle dove se c'è un file e volentieri che possono poterle senterli a loro. Ed è stata un gruppo della comunità. Ma noi si hanno un file, lo possono trovare in un buon settimana. Ma abbiamo un gruppo di Nervos boom che un gruppo di programma, è un gruppo di progetti che segnò in realtà. e è un'idea che in qualche modo hanno collegato tutte le stampanti di un'idea e l'idea è che è possibile far stampare qualcuno perché qualcuno in un'idea e questo è partito da livello locale però può avere un'idea che si sta espandendo e questo è un'idea che si sta crescendo e per me è veramente un grande piacere essere qui e per me è veramente un grande piacere essere qui, grazie I have a very direct question for you not very diplomatic which is the real European Maker Faire it's complicated, I know I won't get out of town unless I say Rome Maker Faire Rome is a European Maker Faire Rome, thank you so much Maker Faire Europea, grazie